Cari amici buongiorno, vi invito oggi ad aprire la parola del Signore in filippesi al capitolo 2 di cui leggeremo il versetto 11 che dice Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Il Signore desidera che ogni persona di questo mondo sappia che Gesù Cristo è il Signore, che possa conoscere l'Evangelo, la buona novella. È vero che la Bibbia è stata tradotta in molte lingue e che chi lo desidera può facilmente reperirne una copia cartacea o scaricarla sul PC o sul cellulare, ma ci sono ancora circa 1800 lingue nelle quali la Bibbia non è stata ancora tradotta. Matteo 24 ci dice che prima del ritorno di Gesù l'Evangelo sarà predicato in tutto il mondo. Quindi cari amici, amici, cari fratelli, cari sorelle, abbiamo un compito solenne affidatoci direttamente dal nostro Signore. Ognuno di noi può fare qualcosa con i talenti che ha ricevuto da Dio, condividere questi messaggi giornalieri con chi non conosce ancora Gesù, inviare un versetto di sostegno o di incoraggiamento, regalare una Bibbia a chi non ce l'ha. Sembrano cose di poca importanza, ma solo apparentemente, perché così facendo potremo aggiungere le persone raggiunte dal messaggio divino al gruppo delle persone che confessano che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Che Dio ci aiuti in questo. Amen. grazie a tutti